Voi sapete che noi abbiamo una rubrica che si chiama Lamentele, cioè un po' parafrasare questa cosa intelligentissima che ho inventato io, anche se loro da dietro ridicchiano, che serve un po' ad aiutarvi nei meandri delle difficoltà quotidiane. Maria ci ha scritto, e per questo io mi sono arrecato qui, che ha saputo che non occorre più dover tagliandare l'auto acquistata dal concessionario o dalla casa costruttrice, ma che ci si può rivolgere a qualsiasi meccanico. Allora, io sono venuto da Mauro di MT Motori, che gentilmente si presta a rispondere, perché, giusto, la legge Monti, questa legge Monti che dice? È una legge del 2002 che equipara gli interventi, diciamo, cosiddetti di manutenzione ordinaria, effettuati ovviamente da officine riconosciute, quindi non dall'improvvisato o dal privato, equipara il tagliando dell'automobile anche nel periodo di garanzia a quello che effettua la casa madre. Quindi è finita la paura di vedersi rifiutare il tagliando, a patto che, per le informazioni che io ho preso, il meccanico in questione deve usare materiali paritetici, tipo gli stessi oli, oppure di pari caratteristiche, giusto? Bravissimo, esatto, sì. Sì, perché dopo non è vero che questa legge consente appunto questi interventi anche a officine al di fuori delle case madri, però è altresì vero che comunque è sempre meglio, anche per un discorso di garanzia e tutto, avere le cose in chiaro. Quindi se un motore, se le specifiche di un motore richiedono oli di gradazione, faccio un'ipotesi, 10W40, dopo non ci si potrà appellare a un guasto in garanzia. Se non ha quelle caratteristiche. Assolutamente. Quindi Maria, la comunicazione finale è non andare dal poro schifoso, come si dice a reso, vai da un meccanico qualificato, informati se è in grado di poterti fornire un tagliando. Dopodiché il meccanico apporrà il suo timbro sul libretto, no? E quello a Valenza, le case madri non potranno rifiutare la garanzia in caso di guasto, diciamo, per malefatta del veicolo, oppure comunque la macchina nuova può succedere come quelle usate. Quindi, ripeto, l'importante è che i materiali usati siano equiparabili come caratteristiche, anche se non sono, addirittura, anche se non sono quelli venduti dalla casa, devono essere materiali, fitti dell'olio, fitti dell'aria, o anche pezzi di ricambio, parte di ricambio, equiparati a quelli originali. Ah, quindi anche il pezzo di ricambio può essere? Assolutamente sì. Con ciò, non voglio dire, è chiaro che oggi le officine delle case madri sono assolutamente all'altezza della situazione, anzi, sono sicuramente più veloci nel tagliando rispetto a un meccanico qualsiasi. Quindi, se la domanda è, è meglio andare da un meccanico qualsiasi, o da una casa madre, io parlerei sempre della casa madre. Però si può, perché Maria mi sa che quello della casa madre c'ha avuto a che discutere. C'ha avuto a che discutere, quello della casa madre non potrà negargli un intervento in garanzia per legge, non glielo può negare. Quindi la tua garanzia, cara Maria, non scade, se te l'avessi detto io, magari ci potevi non credere, se te lo dice Mauro, che è un addetto a lavori, ci puoi credere. Grazie, buon lavoro. Grazie a te tanto.